Un altro. Lei si è assunto la responsabilità per difendere la sua memoria. È il minimo che potessi fare per lui. Sì, te lo fai tu. Ma si può sapere che ti prende? Oh. Che cosa succede? Nella macchina sono sì, non c'è capitato. Cosa? Stava sotto al sedile, la stavano spiando. Che mi hai fatto a scoprire? Il mio cellulare, gli ho fatto una modifica per captare le intercettazioni. Maledetti bastardi. E adesso che si fa? Che si fa? Niente si fa. Ci hanno pagliato le gambe con l'indagine parallela. Ordini superiori, no? Vai qua. Questa è la tangarella. È il ricordo.